nuovo appuntamento con l'amico stefano poletti un inside racer che abbiamo già avuto modo di conoscere di incontrare e che oggi invece che in italia ci porta fuori dall'italia a scoprire qualche cosa di veramente molto interessante benvenuto ben trovato stefano ciao roberto grazie per l'invito dove ci porti oggi allora oggi vi porto nel canton ticino si trova a sud nelle alpi in svizzera in un luogo chiamato luco magno il luco magno è un passo che divide la svizzera romanda romancia paragon quindi dove si parla una lingua molto particolare quindi il romancio da il canton ticino il canton ticino che è la parte italiana della svizzera dove si parla chiaramente l'italiano e il dialetto ticinese chiaramente svizzera siamo appena oltre confine quindi molto semplice da raggiungere volendo per scoprire questi nuovi territori intanto stiamo proprio vedendo qualche immagine di copertura quali sono le sue caratteristiche principali allora innanzitutto detto bene molto è collegata molto bene con l'italia infatti basta percorre prendere il treno a milano per arrivare ad airolo che la fermata prima del passo del san gottardo ed è la linea che collega milano con zurigo idem in macchina quindi si arriva molto facilmente ad airolo si arriva airolo che è una località nella valle veleventina della svizzera è un paesino di circa mille abitanti da cui si può partire per andare sul prendendo la funivia del peschum alla nota stazione scistica dove poco tempo fa hanno costruito un bellissimo divertentissimo bike park per usare i superlativi assoluti nel senso è molto divertente dopodiché si può scendere al paese che poi la realtà quello che abbiamo fatto siamo saliti abbiamo percorso una discesa del bike park siamo arrivati in paese dopodiché grazie ai servizi postali che in svizzera fungono anche da mezzo di trasporto abbiamo caricato le nostre biciclette appunto sul pullman siamo saliti sul passo del san gottardo a oltre 2000 metri abbiamo percorso un bellissimo sentiero che ci portava fino nuovamente airolo da lì siamo scesi ad ambrì dove parte la dove parte una delle funicolari più suggestive particolari d'europa che è quella che porta fino ai raghi ai laghi del rito è molto ripida infatti c'è una certa suggestione quando si sale su quella su quella funicolare e da lì si arrivano ai laghetti ai laghetti che circondano la diga del rito che viene utilizzato per la produzione idroelettrica e abbiamo sostato una notte in un rifugio al passo cadagno che è molto bello e particolare la descrizione è precisa sicuramente insieme a queste immagini anche incuriosito ma un paio di focus principali anche e non solo sul panorama davvero suggestivo davvero interessante bello colpisce molto quello che stiamo vedendo ma un paio di focus proprio su questo sugli elementi che hanno colpito di più che possono colpire di più i nostri amici che scelgono di fare in bici il percorso che ci sta indicando allora i focus chiaramente sono le bellissime montagne verdi svizzere è perfetto sembra di essere in paradiso in alcuni punti ampie vallate verde e i sentieri oltre al panorama sono molto curati sono curati molto bene non sono estremamente difficili cioè soprattutto quello il primo che abbiamo fatto è molto tranquillo adatto a qualsiasi mountain bike full secondo me è chiaro non non adatto agli improvvisati però con un minimo di allenamento ci si può divertire con delle belle discese molto molto lunghe inoltre anche a coloro che hanno un minimo di spirito d'avventura dal momento che la notte la si passa in un rifugio quindi un'esperienza tutto tondo non solo a livello a livello sportivo dove si possono poi gustare anche quelli che sono i piatti tipici del territorio come i formaggi che vengono prodotti nel rifugio e poi chiaramente il bellissimo panorama che si apre come vedremo nelle immagini in cima al passo del sole che ha da 2300 metri ci porta fino all'abitato di Biasca è un territorio quello del canton ticino sicuramente senza dubbio votato al ciclismo quindi un richiamo significativo per il ciclista per il biker italiano allora in primis c'è da dire che in svizzera i percorsi che sono utilizzati dai pedoni non sono vietati per i ciclisti è chiaro che vige il buon senso come ci diceva anche la guida in questo video abbiamo visto ralf e simone che sono le due guide che ci hanno accompagnato lungo questo questo percorso e ci dicevano appunto che non ci sono dei divieti particolari vige il buon senso quindi vuol dire se si vedono delle persone a piedi non bisogna saltargli in testa però se si usa calma e tranquillità ci si può divertire sono tenuti molto bene i sentieri non ne abbiamo trovato uno sporco e rovinato quindi ci siamo proprio divertiti ed è in uno scenario in un contesto molto molto bello alpino c'è la copiata perfetta quella dell'inter modalità più mezzi di spostamento con cui raggiungere i punti giusti e poi il sentiero ben tenuto quindi soddisfa davvero tutte le necessità di un biker secondo me si le soddisfa pieno eravamo dalle parti del san gottardo quindi abbiamo visto anche delle bellissime immagini appunto il canton ticino in svizzera avremo molto altro da raccontare non solo riguardante l'italia appunto grazie molto a stefano poletti grazie a te roberto grazie a te roberto